hai visto cazzarola eh non ci stai quello ci stava eh quello ci stava leo devi farlo verso la pianta ah magari devo chiuderlo diretto o sennò lo chiudi sopra sennò lo chiudi su bravo bella un piano di cosi lo potevo fare direi proprio di no pensavo che ci stavo invece te lo sei proprio pelato perché o lo fai come ha detto il leo che lo chiude sul sasso ma figa non è proprio il massimo eh no provare magari a prenderlo verso la pianta trena tutto di là prova a prendere un po' di là qua Renato non ce l'hai tu vai vediamo che cazzate con qui non eh va bene no ma deve provare via non ce l'hai tu via guarda non ce l'hai tu cazzate ah non ce l'hai tu porta comunque un pelino più di gas e ceri proprio un pelo brava la metusa quello il problema è la versione maschile della metusa perché anche lei è tutta tatuata così